per aver organizzato questo importante convegno e per avermi invitata. Da meridionale e da siciliana mi pongo da anni la domanda del perché della questione meridionale. Da eh dall'unità d'Italia eh la questione meridionale è appunto un nodo eh che accompagna eh l'Italia eh da cui non si riesce ad uscire. A mio avviso il fatto che ancora si parli di questione meridionale eh è dovuta a una serie di fattori culturali, geografici ma anche le politiche regionali e nazionali che si sono succedute secondo me non hanno dato quell'impulso necessario al mezzogiorno per camminare da solo e eh colmare il gap con con il nord. Si è passato da un assistenzialismo eh forzato a eh l'introduzione di eh forme di eh industrializzazione del mezzogiorno basate ovviamente sul ehm sistema economico di tipo neoliberale eh ovviamente sulla ehm la concorrenza spinta basandosi soprattutto sulla precarizzazione del lavoro e dei bassi salari che non ha permesso al mezzogiorno di diventare comunque eh competitivo a livello ehm nazionale e anzi è sempre maggiormente arretrato e ricattabile sempre più fragile e eh la cosa che mi ha eh colpito comunque in questi anni di esperienza parlamentare parlando con i colleghi del nord è quello di eh essere sempre tacciati noi meridionali come quelli che vogliamo un'assistenza vogliamo sempre denaro denaro che denaro che dreniamo dal nord ricco e produttivo eppure negli ultimi vent'anni cioè dati alla mano non sono eh elucubrazioni dati alla mano negli ultimi vent'anni il mezzogiorno la spesa pubblica del mezzogiorno è diminuita di circa dieci miliardi ciò che è mancato e ciò che manca secondo me è una visione di insieme di mezzogiorno nel contesto mediterraneo italiano ma anche europeo si è trattato il mezzogiorno un po' come il figlio eh debole eh che aveva bisogno appunto di questa assistenza ma non gli si è dato non gli si sono dati gli strumenti per camminare da solo lo stesso PNRR che eh prevede il quarantapercento di risorse destinate al mezzogiorno di fatto sappiamo che non è esattamente così io porto l'esempio della Sicilia io sono siciliana quindi eh ho seguito questo caso il Ministero dell'Agricoltura ha fatto un bando per eh l'ammodernamento del sistema enrigo per l'agricoltura la Sicilia eh su trentuno progetti non ne ha beccato neanche uno perché eh l'incapacità della classe ehm della classe amministrativa siciliana di redigere un progetto e eh con errori tra l'altro grossolani ha fatto sì che appunto la Sicilia non non avesse neanche eh un eh un quattrino dai fondi del PNRR poi il Ministro dell'Agricoltura ha trovato fondi eh a parte ma non quelli del PNRR che quindi non siamo riusciti a beccarci e eh per quanto riguarda questo specifico bando abbiamo visto che il settantatré per cento dei fondi sono andati a settentrione e eh il ventisei virgola otto al mezzogiorno quindi anche qui la quota del quaranta per cento non è eh totalmente eh rispettata. Lo stesso rapporto del Svimez ha eh sottolineato come appunto questa quota del quaranta per cento non viene rispettata soprattutto dai due ministeri attrazione Lega che sono il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Turismo. Quindi secondo me ancora eh a livello nazionale non si è capito qual è il ruolo che può giocare eh l'Europa. Draghi parla di eh ridare vitalità al mezzogiorno ma di fatto lo dicono un po' tutti eh i primi ministri ma poi di fatto non si fa niente. Draghi appunto dice di eh ridare un ruolo eh centrale al mezzogiorno salvo poi spingere per la riforma della autonomia differenziata. Sappiamo che questa riforma è eh devastante soprattutto per il mezzogiorno perché prevederebbe tra l'altro la possibilità per ogni regione di trattenere le eh le imposte che vengono eh pagate su quel territorio sappiamo che il mezzogiorno d'Italia ha una capacità reddituale quindi una capacità eh di pagare delle imposte molto eh più bassa del settentrione con la conseguenza che quindi anche i servizi al mezzogiorno verrebbero eh ad essere eh completamente eh irrisori dei dei servizi insomma scadenti come già ce li abbiamo. In più eh la eh serie di conseguenze nefaste che stiamo vivendo a seguito della pandemia a seguito della guerra la siccità sono tutte una serie di eh cambiamenti che stanno impattando in modo devastante il sud e non c'è ancora una visione di insieme di mezzogiorno non c'è una visione di che ruolo deve avere il mezzogiorno nel contesto non solo mediterraneo ma anche italiano ed europeo quindi secondo me ancora non si è capito bene eh da che parte cominciare per far sviluppare il mezzogiorno. Un altro eh problema che secondo me ovviamente è eh uno dei grossi eh ostacoli allo sviluppo del mezzogiorno è la criminalità organizzata. La criminalità organizzata io eh girando un po' la Sicilia eh vedo come spesso in molti territori ancora eh gli stessi progetti, lo stesso ehm volontà di eh avviare un processo di cambiamento parlavamo l'altro giorno alla Lucoil eh a Siracusa eh il fare ehm dei progetti di bonifica, di fare ehm anche una conversione della Lucoil che è una raffineria eh ma ovviamente eh magari eh convertirla in una qualche attività di tipo eh eh ecologicamente sostenibile implicherebbe dover passare da quello che è un sistema di controllo del territorio eh che eh è molto difficile poter implementare dei progetti di sviluppo dove comunque la criminalità organizzata a questo potere controlla massicciamente le persone e l'economia territoriale e questo secondo me implica eh una un coraggio molto forte da parte eh delle amministrazioni ovviamente regionali ma anche nazionali. Il problema della criminalità organizzata nel mezzogiorno, io parlo per la Sicilia che conosco meglio è eh è un problema che ancora non è stato del tutto eliminato anzi non è stato completamente eliminato e molte sacche eh molte territori sono ancora controllati e gestiti la stessa economia è gestita dalla criminalità organizzata soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti viviamo perennemente in in emergenza e perché sappiamo che ci sono i signori che gestiscono eh i rifiuti che non possono essere eh toccati non possono essere eliminati così come anche la questione del traghetto la Caronte Turist che sostanzialmente ha il monopolio per il traghettamento dei passeggeri e in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose quindi è un problema la criminalità organizzata nel mezzogiorno e anche lì ci vorrebbe un massiccio intervento nazionale quindi secondo me quella del sud Italia è una questione nazionale come tale va valutata eh e che non riguarda solo noi meridionalisti appunto ho detto eh che ha molti colleghi ma mh cioè colleghi non della lega molti colleghi ancora eh non hanno ben concepito il la questione meridionale ehm e bisogna recuperare quindi una visione unitaria e non frammentare dell'Italia e nell'attuale PNRR secondo me questa visione non c'è non c'è ad esempio quando a Catania con i fondi del PNRR si vogliono costruire delle aule studio sopra un eh un parco archeologico non c'è ad esempio quando si vuole costruire la base di Coltano eh in una in un'area naturale c'è si fanno questi progetti che sono un po' eh dei progetti eh ripresi vecchi eh quello appunto di Catania dell'Università di Catania era stato bocciato vent'anni fa si riprende questo progetto sperando che venga finanziato con i fondi del PNRR quindi non c'è un'idea di sviluppo anche dell'istruzione dell'Università di Catania dell'Università del Mezzogiorno ma eh si cerca di accaparrarsi questi fondi per delle cose completamente inutili per il territorio e per le generazioni future così come eh a livello economico non si è puntato appunto sullo sviluppo del territorio in senso eh sostenibile eh in senso eh di sviluppare un turismo sostenibile o essere sì il mezzogiorno un polo energetico ma di energia appunto eh rinnovabile non come intende Draghi eh di far diventare il mezzogiorno eh una serie di rigassificatori o eh di eh tubature da cui eh importare il gas da altri paesi autoritari. La lotta al cambiamento climatico infatti è urgente tra l'altro il mezzogiorno è quella che vivrà eh principalmente la la siccità da eh alcuni studi è emerso che eh nel duemila e sessanta mi pare la Sicilia sarà completamente eh desertificata quindi assisteremo anche a un'emigrazione forzata dovuta appunto alla alla siccità incombente. Secondo me il mezzogiorno può eh giocare un ruolo importante, un ruolo di ponte tra il Mediterraneo e il Nord Europa, non solo eh come come luogo da cui trarre energia politica ma anche eh sede di start up innovative, di turismo sostenibile, di un agroalimentare sostenibile e biologico, la Sicilia tra l'altro è una delle regioni con il la più alta densità di agricoltura biologica e le due facce della medaglia potrebbero rendere l'Italia completa, quindi un mezzogiorno vocato a eh un agriturismo, a un turismo sostenibile, a un'energia pulita e eh l'Italia del nord più votata alla finanza o ad altri eh settori. Concludo dicendo che Olivetti sosteneva che una società che non crede nel proprio avvenire non potrà mai avviarsi verso una meta comune e affogherà in una vita limitata, meschina e corrotta, darsi uno scopo, scoprire delle vocazioni, promuoverle e il modo più autentico affinché una civiltà possa esprimersi. Quindi io credo che affinché possa avvenire una eh una riscossa appunto del mezzogiorno il popolo eh del del meridione deve eh ritrovare appunto questa sua vocazione, deve capire qual è eh il suo percorso, la propria strada coniugando tradizione e futuro, innovazione e storia e io credo che quindi sia il momento che i popoli del mezzogiorno comincino a disegnare il proprio futuro come hanno fatto a Coltano, come hanno fatto a Piombino oggi, sono i popoli che devono individuare qual è eh il la loro strada e per seguirla. Grazie. Grazie. Grazie.